I due minuti di londi hanno una durata percepita variabile. Musica, musica, musica. Ciao e complimenti. Hai vinto una simpatica sorpresa a MusicaDette. Un grazie per la tua partecipazione dai concessionari Opel General Motors. Musica, musica, musica. Carlos Emanuele di Riesce entra in aria. Carlos Emanuele, il colpo di testa da parte di Biercomus che salva il tentativo di Pietra. Il quale avanza, la palla è per Bastos Lopes I. Luca è entusiasta. Luca è entusiasta. Vero amore? No! Luca è entusiasta. Vero amore? No! Numero tredici. Ricordiamo I, M, il medio, e A. I, M, e A. I, M, e A. Ricordiamo che I, M, e A, I, M, e A, e A, e A. E si preoccupa tanto. Si preoccupa sì vedendo lui. Non ha il bollino blu. Non ha il bollino. 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 Blu, 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 blu. Burro. Burro. Si sa la conformazione, il dito è indice, sì. Per ottenere sarà bene, precisamente, controllato. Cercando di evitare che capitino nei punti liga. Vi sono due tipi di grande e piccola. Già finito? Però Ciao! ... ... ...